La Liguria continua ad essere interessata da un'importante fase di maltempo, almeno fino a lunedì, con piogge diffuse e persistenti, ma di intensità generalmente fra moderata e forte, che insisteranno ancora soprattutto sul centro della regione. Le valutazioni dei possibili effetti al suolo hanno portato Arpala a prolungare e modificare l'allerta meteo, che sarà gialla agli estremi della Liguria e sui bacini interni del centrolevante fino alla mezzanotte di domani, domenica 20 ottobre, mentre sul settore centrale è gialla fino alla mezzanotte di oggi e poi arancione fino alla mezzanotte di domani. Nella giornata di domani l'attività temporalesca, pur non assumendo le caratteristiche dell'evento di qualche giorno fa, aumenterà da circa metà giornata. Il fronte non passerà sulla nostra regione ma passerà più a nord, ma questo intensificherà in Liguria il richiamo di aria umida meridionale e quindi carica di pioggia. Lunedì si attendono piogge di intensità tra moderata e forte e alta probabilità di temporali forti. Previsto inoltre vento forte. La sala operativa della regione resterà aperta per tutta la durata dell'allerta.